Oggi voglio parlarti del piede, questa meravigliosa macchina, questa macchina meravigliosa che ci sostiene, sostiene tutto il nostro peso. Ricordati il primo alzarsi dal letto e l'ultimo andare a letto. Effettivamente è così, viene solo calcolato quando ci fanno male i piedi e mai viene calcolato per la importanza che ha, quello di sostenere tutto il nostro corpo. E da lì partono tantissime cose. Tu sai che tipo di piede hai? Sai se il tuo piede è egizio, se il tuo piede è quadrato, se il tuo piede è greco? Sai riconoscere se stai portando la calzatura esatta? E poi soffri spesso di mal di gambe? Qualcuno ti ha dato dei consigli mirati per poter evitare questo mal di gambe e per poter affrontare al meglio la situazione dell'estate o della primavera che sta arrivando? Tutto questo io l'affronto attraverso la pedicure perché faremo insieme, la prima volta, un'indagine per poterti spiegare al meglio quale sia il tuo tipo di piede, quale calzatura portare e perché portare quel tipo di calzatura. Quando uscirai sarai un'altra persona perché avrai comunque delle nozioni importanti per risolvere al meglio tutti i tuoi problemi. Puoi iscrivermi se vuoi maggiori informazioni, io sarò felice di poterti rispondere. Tutta questa informazione che diamo attraverso la pedicure la diamo anche in maniera ancora più approfondita se fai un programma del mio metodo Cellustop perché dal piede parte tutto quello che lo interessa per migliorare la circolazione e quindi la cellulite per la ritenzione idrica e via 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 dicendo. Io ti aspetto sempre, dimmi pure se hai bisogno di maggiore informazioni. Alla prossima, ciao!